Ben tornati carissimi amici retro in questa parte numero 11 di Shenmue, oggi è il primo giorno di lavoro per Rio, quindi potete già immaginare cosa adesso ha intenzione di fare, giustamente torniamo al porto, finalmente abbiamo evitato tutte le scene, andare a Dobuta, prendere il Pullman e via di seguito, almeno per buona parte diciamo di quelle scene lì vengono eliminate. Allora cosa che accadrà anche nei prossimi giorni, accadrà sempre tutte le volte che noi tenteremo di giocare, arrivare al porto. Una volta arrivati sul posto di lavoro ci sarà questa fatidica gara dei muletti, con tre giri e quindi ragazzi questa è la parte che odio più in assoluto, perché arrivare primo in questa gara qua è difficilissimo. E il massimo che sono riuscito a fare, non diciamo in questa gara qua, ma fura di tentativi e tentativi negli altri giorni di lavoro, sono riuscito ad arrivare almeno secondo. Arrivare primo è un'impresa titanica, cosa che io proprio non sono mai riuscito a fare ragazzi. Poi ci saranno anche dei momenti che, se non ricordo male, la gara dei muletti l'avevo tagliata perché dopo un po' diventa pesante ragazzi, quindi se volete un mio consiglio se dovreste registrare Shenmue, se doveste farci un gameplay o giocarci, non prendete tanto in considerazione la gara dei muletti. Diciamo che come premio ti danno il muletto, un numero in base alla posizione che tu vinci, ti danno il numero che acquisisci. Per esempio arrivando ultimo io in questa gara qua mi hanno dato il numero 5, se arrivavo quarto mi davano il numero 4 e via di seguito. Cioè non sono riuscito ad arrivare mai primo, quindi non posso dirvi con esattezza cosa c'è al premium numero 1. Però ragazzi, continuare a fare le gare dei muletti dopo un po' diventa pesante ed è anche una perdita di tempo secondo me per quanto riguarda il gameplay stesso. La prima ve la faccio vedere, farò vedere anche probabilmente la seconda, ma poi dopo le prossime parti le cambierò perché effettivamente non ha senso. Però vabbè, è stato questo, diciamo questo è Shenmue ragazzi, è un gioco purtroppo che è bello, ha pro e pro, ha anche parecchi contro, cioè ci sono pro e contro perché la storia è molto bella, ti coinvolge, ma ci sono dei momenti ragazzi che è veramente una palla unica, come questa gara qua dei muletti. Perché è anche molto sensibile il muletto, appena sfiori qualcosa esso si blocca, tocca farla retro, perdi tempo e insomma è così. Poi essendo la prima volta che utilizzavo il muletto qua, ciao, era veramente un po' difficilotta la situazione. Però ciò non toglie che alla fine io giocare a Shenmue mi sono veramente molto molto divertito. Ed è così ragazzi. Comunque, bando alle ciance, vediamo adesso di riuscire a completare questa gara qua per poi concentrarci sulle nostre quest, perché noi siamo giunti al porto, ci siamo fatti assumere come carrellisti al fine di poter trovare gli indizi riguardanti i Mad Angel. Ed è quello che effettivamente siamo qui a fare. Ci mancherebbe ancora un giro, ragazzi, avete visto che sofferenza, tutti che sono già avanti tra un po', ci doppiano tra un po', e quindi ci doppiano il giro, quindi col cavolo che riusciamo ad arrivare almeno neanche quarti, scordiamocelo, almeno per questa fase qua. Quindi la cosa anche brutta e che tende ad ammazzare anche parecchio il tempo, perché in determinati orari si svolgono determinati eventi. Ed è così Shenmue, purtroppo. Niente, adesso vediamo di arrivare al giro mega super ultra sofferente e poi vediamo di fare ciò che ci dicono sul posto di lavoro. sì, io ho alzato le pale stupidamente, perché è super per fare il piccio. E poi, perfetto, vediamo di arrivare al capolinea, che ci siamo già anche molto vicini, e poi concentriamoci su la quest, le quest odierne. Ok, eccolo qua. Siamo arrivati. Eh, non so, abbiamo bisogno di molta pratica, su questo non avevamo dubbi. Abbiamo trovato il muletto numero 5, questo è il nostro premio. Ok, adesso è giusto, mi arriva proprio il momento di fare il lavoro giusto come Dio comanda. Ok, dobbiamo portare tutte le casse al capannone numero 18. Entro un determinato orario. Allora, ci sarà un momento dove dovremo per forza utilizzare un determinato percorso. Qua, invece, non è obbligatorio. Soltanto all'ultimo giorno di lavoro dovremo riuscire a fare questo. Comunque, il nostro obiettivo è prendere le casse, portare al warehouse numero 18, e così via di seguito. Ed è questo quello che contava per noi. Allora, diciamo che, ripeto, la quantità di casse per il primo giorno non conta, neanche per i primi. Contano specialmente nell'ultimo giorno, ragazzi. Comunque, portiamo la roba qua in questo capannone, ed è questo quello che ci è stato detto di fare. Tac! E dobbiamo continuare fino a che non arriva il mezzogiorno, che è la pausa, e poi fino a che non arrivano le 5 del pomeriggio, che praticamente tutti i lavoratori smettono di lavorare. Sì, io voglio fare il precisino, ma non è la posizione che conta, ragazzi. Conta meno male metterle. Perché, in base al lavoro che facciamo, alle casse che depositiamo, ci viene dato anche un aumento di stipendio, in base al nostro impegno, ragazzi. Ed è così che funziona con Shenmue. Ok. Usciamo dal capannone e ripetiamo la cosa. Diciamo che questa cosa qui, dopo un po' che la fai, diventa monotona e via di seguito. Io più che altro utilizzavo anche questa opportunità al fine di girare un po' attorno per vedere se arrivavano degli eventi, cosa che dovrebbe accadere poi tra non molto. ripeto, in base agli orari, arrivano gli eventi, e via di seguito, ragazzi. Continuate con questa cosa qua, fino a che non arriva l'orario di pausa, e poi scopriremo il da farsi con gli eventi. Continuate comunque. Lo so, ragazzi, ripeto, è un po' monotono, ma purtroppo in questa fase qua, l'ultimo CD è proprio quasi tutto così. Allora, ripeto, è un po' monotono. Allora, ripeto, è un po' monotono. Allora, ripeto, è un po' monotono. La scopri anche la pagina di QTS è un po' monotono. Allora, ripeto, è un po' monotono. Allora, ripeto, è un po' monotono. Smagl 나 la pasta. Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, siamo giunti al mezzogiorno e adesso è il momento della pausa per Rio. Qua possiamo approfittarne della pausa al fine di poter indagare un po' in giro per il porto. Ed è quello che vi consiglio di fare perché Shenmue, ragazzi, è fatto proprio così, approfittarsi proprio delle pause pranzo per capire che cosa accade, specialmente parlare con i colleghi di lavoro. Oh, oh. Ok ragazzi. Questi sono i momenti migliori, questi sono i momenti migliori che preferisco, ovvero picchiare un po' la gente. Dobbiamo difendere Mark perché è stato accusato di essere uno degli uomini di Shenmue, quindi sappiamo benissimo che Shen, che è Master Chen, a cui ci siamo rivolti già in diverse occasioni, sta in questo porto qua e sa parecchio sui Mad Angel. E quindi, visto che è stato nominato Master Chen, dovremo poi andare a parlargli. Prima vediamo di sistemare questi due valori che sono anche piuttosto forti, eh. Quindi, ragazzi, il Mad Angel non è di certo da sottovalutare perché sono veramente forti e scopriremo che sono collegati all'Andi, ma mi sembra di averlo già detto anche nella parte precedente. Guarda, madonna come sono forti. Ok, uno è andato. Adesso vediamo di sistemare anche questo simpatico omino qui per poi poter andare avanti. Mamma mia, come è forte. Figa, tra un po' mi lascia anche senza energia. Ne, ho picchiato quello a terra, poverino, che non c'entrava niente. Oh, ok, sistemato. Sequenza. Oh, ricordo di questo. Grazie, Dio. Chi erano? Sono i Mad Angels. Perché sono i Mad Angels che prendonoci? They seem to think I'm working with one of their enemies. Somebody called Chen. But I don't know him. Master Chen and the Mad Angels. Bene, abbiamo già avuto questo indizio. E quindi è assai molto molto interessante. Quindi ciò che suggerisce quindi di fare è parlare effettivamente con Master Chen per capire appunto se lui è coinvolto. Cioè, a questo punto al povero Rio gli vengono dei dubbi esistenziali. Se Master Chen è coinvolto con i Mad Angels. Oppure se effettivamente lui sa qualcosa. Perché qua ci troviamo proprio in una Babilonia. Nel senso che tutto ciò che ci viene detto dobbiamo tenere in considerazione al fine proprio di scoprire dove si trovano questi Balordi. Ed è quello che abbiamo poi intenzione di fare, tra non molto. Dovremo anche inoltre ripetere il... Cioè, far passare l'orario perché dovremo poi riprendere il lavoro e tutto. Cioè, purtroppo sono dei giorni veramente molto faticosi per Rio. Ma forse Tom sa qualcosa. Ho qualcosa per te chiederti. Siete qualcosa sui Mad Angels? Rio? Siete in problemi con loro? No, sto cercando di trovare con loro. No, man! Non andate a sbagliare con loro! Sono uccidere! Praticamente c'è stato detto di non mischiarci con queste persone perché sono degli assassini. E quindi dovremo riuscire adesso a ricevere proprio più informazioni possibili da questi Mad Angels. Mi raccomando ragazzi, come dicevo io sempre, curare l'orario. Perché in base agli orari, ripeto, si possono manifestare determinati eventi ed è quello che a noi interessa più in assoluto. Un consiglio ragazzi, possiamo anche prenotare una chiacchierata con Master Chen. Nel frattempo però, per far ammazzare un po' il tempo, andiamo qua dentro e compriamo qualcosa sempre che possa esserci d'aiuto. Qua possiamo prendere tutto. Possiamo prendere anche i pupazzetti di Sonic, vincerli, fare qualsiasi cosa a noi interessi. Prendere una lattina, bere qualcosa, qualsiasi cosa, eh. Chiuso per ammazzare anche un po' il tempo. Oh. C'è anche la possibilità di avere delle lattine speciali di vincita, eh ragazzi. È possibilissimo. E io sarò felice una volta che verrà questa bibita. Possiamo anche comprare qualsiasi cosa, eh. Qualsiasi cosa volete, tanti soldi noi ne abbiamo parecchi. Anche se gli chiediamo dei Mad Angel non ci saranno molto d'aiuto perché... Perché tutti hanno paura praticamente di questi Mad Angel. E sono veramente fuori di testa, ragazzi. Perché poi dopo ci capiteranno delle sfide, ci capiteranno altre... Eh... Altre mini giochi, tra virgolette, alla mod di Laser Game. Scappa, fuggi, picchia. Insomma, delle cose veramente molto molto carine. Anche qua, ragazzi, abbiamo la possibilità per dire di comprare gli oggetti e di vincere l'eventuale premio. Avete visto che c'è lì il catalogo in modo tale da poter pescare un biglietto e vedere se siamo fortunati e riuscire a vincere qualcosina? Adesso proveremo, ragazzi. Non è di certo una cosa semplice, ma se c'è la possibilità di vincere, ben venga. Nah. Come al solito non abbiamo vinto un cavolo. Travolo! Vabbè, pazienza, ragazzi. Se non vinciamo, è inutile anche insistere. Però, se volete, tanto di soldi adesso non dobbiamo né comprare né biglietti né nient'altro. Nel senso, biglietti ancora per Hong Kong. Che non ci andremo ora, ma ci andremo proprio a fine gioco senza anche dei biglietti particolari. Quindi non preoccupatevi, ragazzi. Se volete spendere i soldi, fate pure. Tanto a fine giornata ce ne vengono dati tanti altri. Quindi non dovete di certo farvi nessun tipo di problema. E possiamo andare avanti perché tra un po' ricomincerà il lavoro dopo l'eventuale pausa. Dopo questa pausa che noi abbiamo effettivamente fatto. Se non ricordo male, era proprio alle due in punto che si cominciava a lavorare. Mi sembra che era proprio alle due. Perfetto ragazzi, questo è l'orario per cominciare il lavoro. Non preoccupatevi, anche se suonerà automaticamente Rio andrà sul posto di lavoro e ricomincerà praticamente la sessione. Ovvero portare sempre le casse che abbiamo visto nel capannone numero 18. Infatti adesso ci verrà di nuovo spiegato da parte di Mark ciò che noi dovremo fare. Se ce lo spiegherà altrimenti io lo farei in automatico perché ci saranno dei momenti dove te lo rispiegherà. Vabbè, comunque non importa. Sappiamo già quello che dobbiamo fare in attesa delle 5. Una volta che arriveranno le 5 ragazzi, o in qualche orario intermedio potrebbe capitare diciamo una sequenza. Una sequenza animata in modo tale dove incontriamo magari gli eventuali Mad Angel. Comunque voi continuate a fare il percorso che vi ho mostrato. Che è questo. E aspettate il suo eventuale orario. E continuate fino alle 5 ragazzi. Alla prossima. 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 ha ha volete fare i duri eh cioè noi dobbiamo pagare voi si 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 ti prendiamo calci nel culo avete proprio sbagliato persona eh molto bene ragazzi ed è quello che io preferisco su prendetelo si si vediamo se riuscite a prendermi giustamente ragazzi è semplice questi qua non sono granché forti basta soltanto il calcio giusto al momento giusto e anche questi verranno eliminati questi erano molto più semplici niente ormai sono scappati ragazzi continuiamo adesso il nostro lavoro fino a che non giunge praticamente l'orario praticamente saranno le cinque grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi è suonata la sirena e il primo giorno di lavoro è completato. Adesso andremo praticamente dal capo e ci darà praticamente lo stipendio giornaliero perché sapete com'era? Circa 30 anni fa non andavano tanto di moda i conti correnti, sì esistevano ragazzi, ma i soldi praticamente venivano dati proprio a mano. E' così perché ricordo che è così perché ricordo che Shenmue è ambientato nel 1986, praticamente adesso che siamo nel 2016, circa 30 anni fa è ambientato. Non ho detto che è stato dato che è uscito il gioco 30 anni fa. È ambientato 30 anni fa è ambientato 30 anni fa. Sì, grazie a tutti. Ok ragazzi. E ci è stato dato anche un aumento di 50 yen. Benissimo. Filmato. 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 Fai passare. Filmato. Filmato. Abbiamo capito che lo stesso Goro Lui sa qualcosa sui Mad Angel Però è molto spaventato All'idea proprio di pronunciare Quei nomi E quindi a maggior ragione Specialmente qua attorno non è il massimo Quindi Ha detto ci vediamo molto più tardi Ciò che noi adesso conta E vi consiglio anche effettivamente di fare Guardate ragazzi C'era un filmato qui attorno You never know when to give up Do you What do you want I'm here to teach you a new move Like that'll be real helpful You couldn't even handle the Mad Angels Much less take on Landy Shut up Look I don't need your help Hey Fine by me But it's wise to accept the goodwill of others So What'll it be You want mine or not Well if you're so eager to teach me Okay You could be more appreciative First I'll show you the form Watch One step back Shift your weight While backing up Kick This is called a swallow dive Now you try it That's good enough Now while backing up Kick Try it Maintain your balance Maintain your balance Pretty good About what's expected the first time I've got it now But Your technique is still off Now I'll teach you how to utilize the swallow dive The moment you drop back You invite your enemy in And that's when you counterattack That's right I'll demonstrate it thoroughly Well You want to practice more? No That's enough Fine I won't push you any harder You've only learned a basic movement You'll need to practice to master it E ci ha insegnato questa mossa Veramente molto utile Perché i calci di Rio Praticamente È il suo top Specialmente quando dovremo affrontare Anche determinati nemici Why teach me that move You're intent on Going to Hong Kong Right Yeah Even knowing that You may die No matter what So I thought If I were you I'd do the same That's why Molto molto bene Adesso che Guizang ci ha insegnato questa mossa qua Non ci resta che completare diciamo l'orario Perché o andiamo a parlare effettivamente con Master Chen Per effettivamente sapere se lui è coinvolto Oppure torniamo a casa a Dobuita E andiamo a parlare praticamente con Inesan O con Fukusan Se hanno da dirci qualcosa E poi effettivamente riposare Tanto queste cose qua Le si possono anche fare il giorno dopo Non è effettivamente un obbligo Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti È più una cosa secondaria Ciò che per noi conta adesso È proseguire Attendere anche l'orario serale Perché quando si varcano le 19 Effettivamente c'è un determinato Svolgersi ulteriore di eventi Ed è questo quello che a noi potrebbe interessare Siamo quasi proprio alle 7 ragazzi Non preoccupatevi Manca proprio pochi secondi Vi ricordate quel vecchio Ah qua Goro What's going bro? You know about the mad angels? Oh yeah, oh yeah Working hard eh bro? Why are you shouting? Don't you know bro? You don't say that name so loud Why not? Just because You know about the mad angels? Hey! Oh bro Didn't I ask you not to say that so loud? That kind of talk is taboo around here Why? I ain't privy to say I don't know what you're trying to find out about But But I wouldn't be as indiscreet as your being if I's you Oh About the mad angels I done told you bro Don't say that so loud Extreme bad news that gang Really? See you around You bet bro Avete visto che più di tanto di informazioni non ce ne vuole dare Perché è veramente terrorizzato eh Ok adesso c'è il cambio di orario Abbiamo visto che è proprio sera Stavo dicendo È abbastanza importante Anche parlare col vecchietto Quello che avevamo salvato Verso la parte 6 mi sembra Dove praticamente gli avevamo anche dato da bere Se non La memoria non mi inganna Ecco lui Oltre a insegnarci poi delle eventuali mosse È importante per lo svolgimento dei fatti Guardate ora Ben waiting for you It's you What are you doing here? Wanna pay you back for helping me out Teach you something useful Suppose I show you rather than tell you Let's see you try and punch me Me? Punch you? Me? Quit your babbling and punch You call that a punch? That'll be the famous Hazuki style How do you know the Hazuki style? If you really wanna know Give me your best shot Ok then, here we go Why am I missing This was a real fight I just crushed your throat How did you do that? There's more to mastery than offense Evasion without getting hit Is an art in itself My sensei used to call this move The shadow step Shadow step So, how about it son? Wanna learn it? Yes, please teach me First off Show me that there basic Hazuki style stance Alright Hmm That ain't too bad Now come and do what I do We'll see a step forward Pull your arms in a slide real quick Once you slide up behind Cut a blow to the neck like so Now Start from your basic stance Move your weight forward One step only Forward once Nothing else Only need one Something like that As you step forward Get ready to dodge and throw Now your turn You're looking a bit tired son Can you keep on? No, that's enough for today I see Well, at my age Me not get yourself another chance, you know Are you sure? Sorry I don't think I'm up to it It's a general theory that in order to acquire a skill One must practice diligently before one can completely understand it Perhaps we'll meet again Please wait How do you know about the Hazuki style? The Hazuki names known amongst martial artists The style of Iwao Hazuki is revered by many including me Quite popular in spite of being so young he was My father? If you knew that move Why not use it that day? No sense in fighting Sometimes A clean getaway is also victory Never need practice in the day Try warehouse number four Sometimes I'll be there myself Be sure and practice daily Be sure and practice daily Be sure and practice daily I should go home Molto bene ragazzi Adesso che abbiamo ormai imparato tutto Dobbiamo assolutamente tornare a casa Anche perché si è fatto veramente molto tardi E automaticamente Rio tornerà nella propria camera Comunque questa parte è stata molto lunga e molto intensa Io adesso vi saluto perché tra non molto suonerà anche l'orologio di Rio Che automaticamente lo riporterà a casa E adesso vi saluto e vi ringrazio per aver visto questa parte Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima Ciao ciao Ine-san is sure to be worried I need to go home Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti